ciao luca allora raccontami la sensazione di tornare tornare in italia le sensazioni di tornare in italia sensazioni molto molto forte ho vissuto tanti anni qui in italia rubisticamente ma anche a livello umano quindi di tornare qui in italia sono molto contento e poi una cosa in più di stare in una bella città come verona una bella città come verona un bel gruppo tu seguirai soprattutto il pack the forwards e avanti qual è il focus e la focus per noi è solo di in questo momento fare la preparazione fisica e poi piano piano facciamo nostri progressi il tush mischia il gioco di avanti cosa diciamo che formazione cercherai di privilegiare scram line out o il gioco spontaneo e tutto lo gioco avanti quindi mischia tush calcio inizio anche il movimento avanti attorno attorno alla defesa e attacco quindi tutti con la mischia hai già visto tuoi giocatori sei soddisfatto del gruppo di il pacchetto che hai a disposizione sì direi siamo un gruppo con un bel misto c'è tanto possibilità di sviluppare e poi c'è anche un po di esperienza quindi lavorando bene insieme possiamo piano piano arrivare una bella soddisfazione ok ti do la possibilità di salutare salutiamo a chi salutiamo saluti saluto tutti che che vuole essere salutato a tutti diciamo a tutti tutti i tifosi voglio bene tutti infatti diciamo così un salutino un piccolo saluto ovviamente anche al tuo ultimo club che è stato parliamo del rovigo se saluto tutti quello del rovigo sono sicuro che incontreremo prima o poi grazie ciao parlavamo con nostro amico francese di qualche anno fa tu sei giovanissimo quindi sei arrivato in un momento importante della stagione diversa dell'anno scorso come 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 hai vissuto quel quell'anno l'anno scorso quando sono andato qui a gennaio mi sono presentato il progetto un po e mi è piaciuto subito e quindi è stato un bel percorso una società solida presidente molto in gambe sveli e il progetto a lungo termine mi piaceva molto quindi ovvio che c'è questa scommessa di salire subito e ci siamo riusciti con tanto impegno e adesso siamo sende di categoria e sappiamo tutte le difficoltà che ci siano però c'è un staff che si è alzato quest'anno anche le effettive molto più di qualità quindi poi anche uno stadio nuovo un'accademia tante cose nuove che si stanno mettendo in moto è molto bella tanta motivazione per noi di partecipare a questo progetto il tuo ruolo qual è oltre a giocare come ti senti nel tuo club adesso ah sì 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 mi sento bene qui si giocherò e mi occuperò anche della tush insieme a luke marone che conosco bene perché ho giocato cinque anni a roviga poi luke si come stiamo bene poi il grant sta facendo un ottimo lavoro con tutti quanti tu studi bene la piramide del club l'importanza le priorità e questo è molto importante per noi che ci dà un po di direttiva poi parteciperò anche all'accademia per il settore della tush per il giovanile che imparano così siamo stesso filo dei giovani fino a prima scuola che arrivano in prima scuola che siano tutto fare i salti le alzate come si devono fare e questo mi piace molto parliamo giustamente del tuo percorso in francia ho iniziato giovanissimo che mio papà giocava mi ha portato a giocare a sei anni nel club del mio paese che si chiama riam poi sono andata l'ombra samata una stagione ho fatto la selezione regionale e poi sono andata a toulouse per otto anni prima che mi portava qua dieci anni fa che ti ha portato a giocare dove ha fatto una nana venezia mestre che all'epoca andava bene per la scuola però dopo sono stati problemi poi fatto 5 anni a rovigo è stato molto bene bella realtà di rugby che ha subito un po la francia di rugby tanti tifosi proprio due anni a treviso una mezza stagione a firenze perché voleva avvicinarmi comunque la famiglia e adesso a verona sono molto contento di aiutare a crescere il progetto a far crescere il progetto salutiamo a chi salutiamo che ti viene in mente salutare o dedicare questo bel momento della tua carriera assoluta mia compagna che all'ottobre da luce a mia bambina quindi sono molto contento benissimo io ti auguro al meglio grazie che voglio come on dia in france bon courage ciao ciao grazie